Sicuramente è una scelta di carattere attuale perché convoglia tutta la nostra vita sulla terra, quindi cerchiamo qua nei colloqui di Dobbiacco di vedere quali potrebbero essere anche le soluzioni per convivere con la natura, per convivere praticamente con il mondo degli animali. Sì, è stato accolto molto bene perché non avevamo parlato solo delle cose che già conosciamo come il mantenimento degli animali di massa, la produzione di carne e quello che succede dopo tutti questi fatti. Però ne abbiamo parlato anche molto di quali emozioni sentono gli animali, come li fanno vedere a noi umani queste emozioni e quanta intelligenza e quanta consapevolezza c'è nella vita degli animali.